Ancora una vittoria per la tono calipo Vibo Valencia che nella quarta giornata del genuino di ritorno supera al Palla Valencia Potenza Picena con il punteggio di 3-1. È stata una vittoria meritata al termine di una gara giocata decisamente meglio dai ragazzi di coach Mastrangelo che, come noto, scendono in campo senza l'infortunato De Paola che con ogni probabilità ha chiuso anzitempo la stagione. Vibo è partita bene e senza troppi problemi ha chiuso il primo set 25-18. Nel secondo parziale Potenza Picena è venuta fuori anche grazie al caos della tono calipo. La conseguenza è stato un set equilibrato terminato ai vantaggi 30-28 per gli ospiti. Dal terzo set la tono calipo è ritornata ai suoi livelli e non ha avuto grossi problemi ad imporsi. 25-17, 25-21 i parziali. A trascinare la tono calipo è stato un eccellente Mikalovic con 24 palloni messi a terra ma sempre a livello di punti, decisivo anche Velo Votto che è chiuso con 19. Altra conferma è la solidità a muro dei Vibonesi, un vero e proprio fattore e i 17 punti ottenuti con questo fondamentale sono una dimostrazione. La tono calipo quindi mantiene la testa della classifica e si proietta così alle semifinale di Coppa. Mercoledì al Palla Valencia arriva Siena, in palio c'è la finalissima del Forum di Assago.